Che cos'è Giù la testa? È un film politico, comico, farzesco, serio, drammatico? Sì, e tutte queste cose messe insieme, perché proprio secondo me il cinema oggi è adulto e bisogna liberarsi da certi preconcetti. Lo scrittore dice, mettendosi al tavolino, bisogna, che cos'è, si parla di rivoluzione, allora è un tema serio e bisogna essere seriosi, e invece non è vero. La rivoluzione si può trattare seriamente, alla fine, con quello che tu racconti, però nell'arco del film ci possono essere le note più comiche e più farzesche del mondo e forse raggiungere più precisamente e più concretamente anche certi obiettivi, perché attraverso il sorriso ci possono essere tante considerazioni e tante riflessioni.